E' siciliana e da vera donna del sud è passionale, è gelosa, odia i tradimenti e non si fidanzerebbe mai con un uomo già impegnato. Insomma, quanta uomini ha l'idea? E' molto chiara. Forse anche per questo è singolo, glielo chiediamo. Loredana Cannata! Buon pomeriggio! Ciao, ciao, benvenuto, prego. Diciamolo subito, ho superato la prova a scala. Ma perché fa così paura la nostra scala? Perché è colorata nello stesso modo, ci sono gradini stretti e che riflettono la luce e quindi è un po' difficile. Vabbè, se l'hai fatta però. Quindi è vero che sei single? Sì, anche se ti devo confessare che sono sotto attacco, cioè c'è qualcuno. che ha sferrato un attacco al mio essere singole e mi ha spiazzata anche perché non me l'aspettavo. Non lo so, non so come reagire, sono per ora piuttosto sorpresa. Questa persona attacca, ma la Cannata come risponde? Per ora si difende. Ma perché? No, nel senso che la cosa mi ha spiazzata, per questo non so ancora come reagire. Però vedremo, insomma, poi le cose se sono, se succedono, vanno avanti da sole. Hai un po' paura, vero? Sì, da morire. Ma come? Guardi cosa hai paura? È così bello l'amore? Sì, ecco, è una cosa naturale che mi spiazza troppo. Ma quando è stata l'ultima volta che ti sei innamorata? Allora, qualche anno fa un colpo di fulmine, a cui credo, e credo anche che poi si abbiano anche brutte sorprese. Però è bello quando comincia, sono belli i primi momenti, poi se ci si ritrova anche diversi da come ci si era immaginati, è anche normale. Un po' succedere quello. Ma hai avuto qualche delusione che parli così? Sì, sì. Ah, ecco. Assolutamente sì. Ci hanno colpito? È affondata. Affondata? Ma no, adesso siamo, no? Abbiamo cambiato barca? Assolutamente sì. Ecco, questa barca non affonda, mi sa. Questa no, forse no. No, ma come deve... No, quella proprio, guarda, è un traghetto, non so, è una cosa immensa. No? Sì. Senti, ma come deve essere il tuo principio azzurro? Allora, deve essere magnetico, cioè deve avere quel quid in più, quel magnetismo animale in più. In più. Che è una cosa che scatta fra due persone, cioè qualcosa che deve scattare... No, avete inquadrato Marco? Loretano, poi ti spiego il motivo. Anche lui è in cerca dell'amore, tu non sei in cerca dell'amore, ma insomma, è una storia un po' lunga. Chi, insomma, guarda tutti i giorni i festi italiani capisce. Ok. Ecco, una cosa però ha in comune a nostro Marco, la protagonista del prossimo filmato. Marco ama moltissimo la musica, mi racconta che è un bravissimo chitarrista. La protagonista del prossimo filmato, anche lei ama tantissimo la musica. Il suo mito è Céline Dion, che l'ha aiutata anche in un momento molto difficile. Conosciamo Ilaria. Ilaria per il suo duetto, ma soprattutto per la sua vita. Loretana, qual è la tua canzone preferita? La mia canzone preferita è My Way di Frank Sinatra. Ce l'abbiamo, My Way? Per un'energia che ha nelle parole, diciamo, vabbè io alla fine ho fatto come mi pareva. Ma mia mamma, siamo qui a Pasta Italiana! Grazie! Beh, perfetta per un lento. Davvero. Potresti ballarlo con, chissà, il futuro... No? Col futuro... Che stavi pensando? Guardavi. Marco! Marco, li stai invitando a ballare! No! Approfitta, Marco! Approfitta, approfitta... Approfitta... Un dottore. Grazie. In maniera spontanea, Marco, io non ho detto nulla. Basta, Marco, basta. È il magnetismo animale. Grazie. È un magnetismo, Marco. Grazie, Marco. È imbambolato? Va bene. Grazie. Ma è... Sì, è rimasto così. È fatto felice un uomo, lo sai, un ragazzo. Ma è carinissimo e... Vedi perché non posso impegnarmi? Poi magari... Marco, se mai ti dovesse mancare, nel pomeriggio aspetta questa sera, perché lei questa sera è l'avvocato Alice, in prima serata su Rai 1, per sei puntate, partendo da questo lunedì. Quindi la potrei vedere tutti i lunedì sera. Stai tranquillo, va bene? Ritorno ad interrogarti, eh? Torno ad interrogarti, vedi? Assolutamente. E questa sera comunque è la terza puntata e ci sarà il momento, un momento un po' difficile per il mio personaggio, perché comincerà esatto questo flirt con questo nuovo avvocato che è entrato nello studio e... Insomma, ci sarà una situazione un po' difficile, perché... Hai fatto crescere i capelli, vedo, dall'avvocato Alice. Sì, finalmente sono riuscita, sono due anni che cerco di farli allungare, poi per un lavoro o per un altro li ho sempre tagliati. Meglio così, no? Meglio raggiarli per lavoro? Esatto. E perché se ne cadono? Anzi, no, io ne ho fin troppi, in realtà.